Il discorso mister della stessa di famiglia è una stessa importante che è stata facendita nel quattro anni. Ho visto, ho provato, ma ho provato, però è impressionante. Quindi a questo punto, perché se c'è un discorso, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so. L'ho visto? No, no. Ci penso nemmeno. Non ci penso nemmeno. Ora prima di tutto vediamo come sta trovato. E poi vediamo. Gioca o Palmiero o Loviso. Non li metto insieme sicuramente. Sì, sì, no, no. E poi vediamo un attimino. Abbiamo anche Mungo, quel ruolo lì, che se inizia a stare bene ci può dare una mano anche lì. Insomma, non ci sono problemi. Dopo di casa sarà sicuramente più carico. Probabilmente l'anniversario interviene tutto il giro di gioco e ci saranno passati che ognuno combatterà quanto meno la terra passiva. Ma ora inizia un altro campionato. Inizia un altro campionato. Lo dicono sempre tutti, lo diciamo anche noi. Io credo che questa sia una squadra che abbia lavorato bene, che stiamo bene e ci andiamo a giocare a partita come stiamo facendo da tutte le parti. Sperando che ci vada bene. Noi dobbiamo far risultato, dare seguito alle prestazioni e poi vedere. Sì, quello di solito si dice così, però a volte poi contano un sacco di altre cose, lo sai benissimo. Motivazioni, fame, situazioni di classifica. Lo sbaglio che possiamo fare noi è essere contenti di quello che stiamo facendo. Quello sarebbe uno sbaglio enorme. Speriamo non succeda, speriamo che continuiamo a fare bene, speriamo che da qui alla fine siamo intelligenti, pazienti nelle nostre cose. e poi alla fine vediamo che punto di classifica abbiamo e speriamo che dia molte soddisfazioni a tutti. La squadra secondo me sta diventando una squadra forte sotto tanti aspetti, anche la mentalità, gli atteggiamenti sono cambiati, il merito è tutto dai ragazzi, perciò speriamo di far bene anche domani sera. Ma è chiaro che loro in una posizione classifica che hanno dovranno cercare di vincere. Noi altrettanto, perché dobbiamo continuare a stare attaccati a certi obiettivi, che prima di tutto per me sono la salvezza e quando sono arrivato sembrava difficile già arrivarci. Ora se abbiamo un po' di fortuna e ce la sbrighiamo velocemente poi possiamo pensare ad altro, tranquillamente. Ma lui o Tutino, non lo so, anche Tutino sta facendo bene, non ce lo dimentichiamo, vediamo. Tanto sono ragazzi che tanto nel corso della partita giocano di sicuro. C'è un po' di fortuna, non c'è un po' di fortuna, non c'è un po' di fortuna. Eh sì, ho visto... Cosa è il senso? Non c'è un po' di fortuna? No, no, l'ho visto, sono ben assortiti, sono pericolosi. Ma i difensori stanno bene, perciò vediamo un attimino, poi tutta la squadra deve saper difendere. Penso che noi stiamo bene, poi vediamo. In campo ci vanno anche gli altri, però... A me non piace, però gli orari li stabilisce la Lega, quando poi non c'è disponibilità fra le società a cambiare, bisogna stare zitti e andare avanti, purtroppo. Va bene così? Grazie a voi.